Secondo giorno di zona gialla rafforzata in Italia. Resteranno in vigore anche oggi le misure previste ieri. Sarà dunque consentito muoversi e censione fatta per gli spostamenti tra le regioni. Da domani si ritornerà invece in zona arancione, mentre da lunedì lo stivale sarà di nuovo diviso in zone. Frattanto si registra un lieve rialzo della curva dei contagi in Campania. A Torre del Greco ha attestato 26 casi positivi e 29 guarigioni. Ad annunciarlo è il consueto aggiornamento quotidiano del centro operativo comunale. Per fortuna non si registrano decessi, ma i numeri continuano a restare stabili da settimana. 34 i nuovi casi di contagio da Covid-19 nelle ultime 48 ore nel comune di Torre Annunziata. Al contempo si registrano anche 30 guarigioni. Sale a 140 il numero di cittadini attualmente positivi nel comune Plontino. 132 posti in isolamento domiciliare e 8 ricoverati. Un miglioramento si registra invece ad Ercolano. La curva dei positivi, fa sapere il primo cittadino Ciro Bonaiuto, è in discesa. E questo mi fa tirare un sospiro di sollievo. Anche se, come ricordo sempre, non bisogna abbassare la guardia. Sono 414 attualmente positivi a fronte di 1.558 guariti a partire dall'inizio della seconda ondata. Grazie a tutti.